Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alle nuove iscritte, eccomi qui oggi con questo tutorial per realizzare appunto questa cornice multipla e ho deciso di dedicare alcuni video alla decorazione diciamo alle decorazioni per la casa fai da te e utilizzerò varie tecniche e materiali e quindi se avete qualche proposta qualche suggerimento da darmi per un tutorial futuro ditemi pure che se riesco lo realizzo con vero piacere e nulla quindi andiamo subito a vedere come realizzare queste cornici e materiali che ci occorrono allora ragazzi abbiamo visto già come realizzare in un tutorial precedente queste due cornici vi linko il tutorial qui sopra quindi andiamo subito a vedere come realizzare le cornici rettangolari che a prima vista può sembrare un po difficile ma in realtà è davvero molto 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 facile andiamo subito a vedere il materiale che ci occorre allora come materiale ci serviranno ci servirà un blocco di carta scrap o anche dei cartoncini a tinta unita io ho scelto questo qui dai tori vintage ma ci serviranno matita righello dotter e forbici di adesivo con la caldo una taglierina oppure un semplice taglierino e degli abbellimenti vari a piacere andiamo subito a vedere come realizzare la nostra cornice allora ragazzi abbiamo bisogno di un foglio o un foglio di carta scrap o anche un foglio di formato rettangolare a 4 più grande non importa allora come prima cosa andiamo a toglierci quindi ecco qui il nostro foglio adesso che cosa facciamo ci riportiamo ci riportiamo su tutti e quattro i lati delle linee partendo da un centimetro un centimetro due centimetri e un centimetro e lo facciamo per tutti e quattro i lati allora io per far scelitare la cosa utilizzerò questo strumento per realizzare direttamente già le linee invece di puntini quindi voi vi riporterete i puntini a un centimetro un centimetro due centimetri e un centimetro su tutti e quattro i lati e poi traccerete le linee utilizzando semplicemente un righello e uno strumento dalla punta rosandata un dottero una pieghetta questa qui è in pollici quindi io per agevolare il lavoro farò questo quindi ecco qua così avremo già le nostre belle pieghe belle che fatte come potete vedere non so se si vede meglio da questo lato o da questo ok adesso che cosa faccio nella parte più stretta quindi questa qui mi vado a tracciare partendo da qui sopra mi vado a tracciare due centimetri li tengo dall'ultima linea a qui e lascio due centimetri faccio la stessa cosa qui e faccio la stessa cosa sopra ok quindi avrò questi miei due puntini questi quattro puntini e vado a unire le linee così così e poi le vado a unire anche qua ok qui e anche sopra e avrò questo disegno qua faccio la stessa cosa da quest'altro lato unisco i punti ok fino ad arrivare praticamente vedete lo faccio anche da quest'altro lato quindi partendo dalla linea più alta lascio due e anche sotto due 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 e traccio ok quindi avrò sia questo e questo avrò questo schema questo disegno qui adesso dobbiamo eliminare alcune parti quindi io adesso evidenzierò le parti che dovremo eliminare eccoci qua allora quindi dovrò eliminare questo rettangolo e questa parte in tutti e quattro i lati vi faccio vedere qui taglio fino a dove ho tracciato la linea fino a questo a questo incrocio e poi taglio questo che ho realizzato con la matuta e dobbiamo avere un disegno un ritaglio del genere lo facciamo per tutti e quattro i lati una volta tagliato dobbiamo soltanto piegare seguendo appunto le linee che abbiamo tracciato adesso siamo pronti a chiudere la nostra scatola in questo modo un po' Ed ecco qua la nostra tornice fatta, adesso non manca che fissarla con un po' di colla calda. Quindi ragazzi eccoci qui con la nostra cornice, è stata davvero molto semplice come avrete potuto vedere, eccola qui, io ne ho realizzata un'altra con questa fantasia qui, mi piace davvero tantissimo realizzarle, andiamo a vedere quindi, prendendo anche quest'altri due, una composizione che possiamo fare, ok? Quindi io ho pensato di mettere prima questa, subito dopo questa così, così, sotto questa e poi lateralmente questa qui, diciamo una composizione classica di quelle che si vedono in giro tranquillamente. Quindi, dopo di che, possiamo procedere, quando abbiamo deciso quale sarà la nostra composizione, possiamo procedere ad incollarle e poi successivamente a decorarle. Allora, io vi consiglio di utilizzare per incollarle del nastro biadesivo o della colla a caldo. Per incollarle io utilizzerò la colla a caldo. Poi, dopo di che, di una volta incollate, potremo passare alle decorazioni. Grazie. 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 ok, adesso passiamo alle decorazioni ho preso tutte queste decorazioni in legno perché voglio che sia tutto una decorazione insomma molto naturale adesso le vado a distribuire ok, adesso ho incollato tutte le parti di legno adesso non manca soltanto che inserire delle foto e altre piccole decorazioni ecco qui finita la nostra cornice allora io adesso appoggerò delle fotografie che non andrò ad incollare perché sono delle fotografie un po' vecchie e le vorrei mettere più recenti però per farvi capire io queste le incollerò magari così un po' storte ecco qui dove ho sistemato le cornici eccolo qui e nulla adesso aspetterò di stampare delle foto e poi le inserirò all'interno e volendo posso ancora continuare a aggiungere altre cornici lì a fianco andrà poi un quadro e nulla ragazzi adesso l'ho attaccata molto provvisoriamente soltanto con un puntino di colla perché devo terminarla devo aggiungere le foto e tutto il resto bene io spero che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi potrà tornare utile vi mando un abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao